Altre brutte notizie per i frontalieri? Questa volta si tratta delle spese mediche. Abbiamo detto attenzione, attenzione perché i diritti dei cittadini vanno difesi e il governo non sta difendendo quelli dei frontalieri. Le spese mediche sono la nuova frontiera persa. L'abbiamo detto a suo tempo e diciamo ancora oggi ai frontalieri, state attenti perché il governo sta scambiando i frontalieri con il rientro dei capitali. Al governo interessa incassare i soldi della Svizzera, a noi interessa difendere i cittadini e in questo caso uno dei diritti che era quello appunto delle spese mediche e le cure mediche a quelli che sono gli sgravi contributivi relativi ne viene ad essere danneggiato. È un problema serio perché riguarda solo le zone di confine ma evidentemente anche quella parte di PD che dovrebbe difendere il territorio non conta nulla a Roma rispetto ai territori confinanti. Noi ci siamo e lo faremo invece fino in fondo. Lo stiamo facendo per le nostre province di Sondrio, per la provincia di Varese, per quella di Verbano Cusiossolo e per gli altri territori confinanti. Non perderemo mai di vista l'importanza dei frontalieri, altrimenti significa perdere la ricchezza del territorio o, peggio ancora, costringere il nostro territorio ad una nuova immigrazione.